Lo yogurt è un alimento prodotto dalla fermentazione batterica del latte. E lo sai, tutte le volte che io sento il termine fermentazione, mi emoziono. Prima di tuffarci dei benefici dello yogurt, due premesse fondamentali. La prima, nel resto del video, se non diversamente specificato, farò riferimento allo yogurt prodotto con latte vaccino, ma in realtà quello preparato con la soia è sostanzialmente paragonabile in tutto per tutto. Seconda premessa, video suddiviso in capitoli, più o meno come sempre, quindi sentiti libero di passare alla parte che più ti interessa, ad esempio se vuoi alla fine ti insegno come preparare in casa lo yogurt. Ma ora partiamo, perché c'è un sacco da dire. Come spesso accade con i prodotti fermentati, le origini dello yogurt si perdono nella notte dei tempi, risalendo probabilmente a diverse migliaia di anni fa, e ovviamente non è peregrino pensare che possa essere stato scoperto più volte, indipendentemente, in momenti differenti e in aree geografiche separate. L'aspetto chiave che caratterizza l'alimento è ovviamente la vivace presenza di un'abbondante comunità di batteri che prolifera, grazie alla presenza dei nutrienti, della bevanda originale, sia essa latte animale o bevanda di soia. Ed è ovviamente proprio questa vitale, benché microscopica presenza, che si devono gli effetti sulla tua salute, anche se, dobbiamo essere sinceri, c'è ancora grande dibattito in proposito. Personalmente sono un accanito fautore del consumo regolare di alimenti fermentati, ma per onestà intellettuale devo anche ammettere che esiste più di un dubbio sugli effetti che sono in grado di esprimere, o quantomeno sui meccanismi. Fino a pochi anni fa si dava per scontato che agissero da probiotici, ovvero che i batteri – diciamo benefici – presenti nello yogurt sopravvivessero al transito attraverso il tratto gastrointestinale, colonizzando infine l'intestino e promuovendo così l'equilibrio della flora batterica locale, contribuendo non solo a migliorare la digestione, rafforzare il sistema immunitario e prevenire anche la crescita di batteri nocivi, ma anche potenzialmente di agire in forma di prevenzione cardiometabolica. Sebbene alcune valutazioni osservazionali abbiano fatto emergere una correlazione tra consumo di yogurt e protezione da sovrappeso, malattie cardiovascolari e anche da diabete di tipo 2, studi più recenti hanno messo in dubbio la capacità dei batteri presenti nello yogurt di sopravvivere all'acidità dello stomaco e di raggiungere effettivamente l'intestino in quantità sufficienti per avere un impatto significativo sulla flora intestinale, producendo quindi a una maggior cautela quando si tratta di tirare le conclusioni, che ad oggi sono quindi ancora oggetto di discussione fra gli esperti. Se è vero che chi consuma regolarmente yogurt sembra in qualche modo esprimere una composizione peculiare della flora batterica intestinale, allo stesso tempo un consumo regolare non sembra essere efficace nel trattamento della diarrea di antibiotici. D'altra parte esistono diversi studi che dimostrano come un consumo regolare di yogurt e altri latticini fermentati migliori la tolleranza al lattosio nei soggetti più sensibili e questo, se ci pensi, potrebbe essere prova benché indiretta del fatto che probabilmente qualcosa di vivo e attivo all'intestino ci arrivi davvero, e se ci sommiamo anche gli studi che dimostrano effetti positivi su diarrea, non da antibiotici e stitichezza, ok, è vero, due indizi non fanno una prova, ma in realtà ci sono ipotesi alternative, ad esempio che a sopravvivere all'acidità gastrica non sia necessariamente la cellula batterica attiva, ma semplicemente la lattasi, ovvero l'enzima in grado di digerire il lattosio. Bene, chiarito questo aspetto, cioè più che altro chiarito che resta ancora tanto da chiarire, permettimi di rivestire i panni dell'entusiasta fautore del consumo di alimenti fermentati per descriverti quelli che potrebbero, potrebbero, usiamo il condizionale, essere alcuni degli effetti promossi da un regolare consumo di yogurt, ben riassunti da questa recente revisione sistematica da cui sono emerse associazioni interessanti tra il consumo di latte fermentato e la riduzione del rischio di cancro al seno e del colon retto, diabete di tipo 2, sovrappeso e obosità, oltre che un miglioramento della salute cardiovascolare, ossea e gastrointestinale. Alla luce di queste e altre considerazioni, gli autori dello studio concludono quindi che i yogurt e altri prodotti a base di latte fermentato producono risultati positivi sulla salute che vanno al di là del semplice latte di partenza e quindi un regolare consumo dovrebbe essere assolutamente incoraggiato. Lo yogurt è peraltro un'ottima fonte di proteine complete, e sì sono complete anche nel caso di preparazione a base di soia, calcio e vitamina B12, questa invece è prerogativa dello yogurt vaccino. Se poi per un attimo, dessimo per buone le ipotesi che vedono i batteri presenti capaci, direttamente o indirettamente, di modulare in modo positivo la flora batterica intestinale, che quelli studiati oggi chiamano microbiota intestinale, beh che dire, gli effetti sulla salute potrebbero essere a questo punto esponenziali, perché potenzialmente in grado di influenzare rischio e andamento di terribili malattie come sindrome del colon irritabile e malattie infiammatorie croniche come il morbo di Crohn e la colite ucerosa, malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide e perfino malattie neurologiche, anche grazie alla produzione di acidi grassi a corta catena. Ripeto, si tratta di idee suggestive di cui abbiamo studi preliminari e quindi per ora più che altro ipotesi, anzi doppie ipotesi. Ipotesi 1. I batteri dovrebbero riuscire a raggiungere vitali e in quantità sufficiente l'intestino in modo da produrre una variazione significativa degli equilibri tra le diverse specie batteriche presenti. Ipotesi 2. Queste dovrebbero esercitare effetti sistemici, ovvero su organi e apparati, anche distanti dall'intestino, oggetto di studio di centinaia di articoli scientifici prodotti degli ultimi anni, ma tuttavia ancora distanti dal fornirci risposte definitive. In attesa di saperne di più, a mio parere si tratta comunque di una scommessa iper vantaggiosa anche perché, se è vero che persistono dei dubbi sulla portata degli effetti positivi, sostanzialmente non esistono controindicazioni con l'unica avvertenza del contenuto in grassi saturi. Ma su questo ci torniamo a breve. Lo yogurt è infatti un alimento poco calorico, indicativamente 66 kcal per 100 grammi se prodotto con latte intero e più o meno comunque uguale anche per quello di soia, capace di apportare una quantità significativa di proteine 4-5 grammi per 100 grammi, con indici e carico glicemico ridotti grazie anche alla contemporanea presenza di proteine e grassi, privo di lattosio perché, come spiega un brillante titolo su un articolo di 40 anni fa pubblicato sul The New England Journal of Medicine, si tratta di un alimento che lo autodigerisce e infine carico di vitamine, minerali e, anche se i batteri non dovessero sopravvivere all'acidità gastrica, comunque una montagna di composti organici che potrebbero agire come postbiotici, ovvero sostanze prodotte dai batteri che più di un caso potrebbero avere effetti positivi, anche qualora la cellula non fosse più vitale. Poi è buono e ben si presta ad accompagnare frutta, frutta guscio, spezie ed altri alimenti sani, ad esempio della preparazione di salse di accompagnamento per insalate e altre preparazioni. Insomma, se ti piace non c'è davvero ragione per evitarlo, ma a questo punto la domanda sorge spontanea, come lo scegliamo? Se la soluzione ideale è certamente quella di prepararlo in casa, ne parliamo tra pochissimo, per varie ragioni potrebbe non essere una strada praticabile per tutti o quantomeno non con costanza, quindi ecco la regola aurea per sceglierlo dal banco frigo. Cerca yogurt la cui lista degli ingredienti preveda solo due voci, latte e fermenti lattici. Se poi trovi l'indicazione lattifieno, bingo! Sarebbe poi preferibile evitare tutti gli yogurt con coloranti, aromi dolcificanti che non siano semplici pezzi di frutta fresca, perché spesso si tratta, nella migliore delle ipotesi, di calorie vuote da zuccheri semplici e addettivi vari che magari donano sì una consistenza particolarmente gradita, ma che nel contesto generale della tua dieta andrebbero limitati il più possibile. Considera che puoi sempre anche aggiungere tu a casa, se lo desideri, un mezzo cucchiaino di zucchero o della marmellata di frutta, ma in questo modo è più semplice capire cosa ti mangi e soprattutto quanto. Lo confesso, io per esempio adoro prepararlo mettendo sul fondo di una tazza della granola croccante dolce, secondo strato con mela tocchetti, cannella e infine yogurt. E tuttavia sai come la penso, in una dieta sana ed equilibrata non esistono alimenti vietati in assoluto, ma semplicemente cibi a consumare con più o meno frequenza di altri e che richiedono eventualmente una maggiore attenzione per essere correttamente inseriti e inquadrati nel resto della dieta. Se quindi volesse ad esempio fare l'amore con il sapore, fare l'amore con il sapore e optare per preparazioni dolci, perché sì, a quel punto il vasetto diventa a tutti gli effetti un dolce, non più uno yogurt, sarà semplicemente necessario tenerne conto a livello calorico e di zuccheri, ma non è vietato a prescindere. Altro dubbio frequente, la scelta tra yogurt intero, scremato o zero grassi. Le linee guida italiane suggeriscono di scegliere, preferibilmente quello parzialmente scremato. Personalmente, prima di fare la scelta vegana, ero più portato a preferire quello intero, che con pochi grassi in più in genere garantisce una consistenza più gradevole, un apporto di vitamine liposolubili completo e, secondo alcuni studi preliminari, anche un corteo di effetti positivi sulla salute un po' più solidi, anche nell'ottica di perseguire sempre una più ridotta lavorazione possibile dell'alimento naturale. In ogni caso, questa è una di quelle tipiche considerazioni che probabilmente è meglio valutare ad persona, con il tuo medico o il tuo nutrizionista, tenendo conto dell'apporto di grassi saturi e di calorie della tua dieta. A proposito di calorie, attenzione perché moltissimi yogurt a basso contenuto di grassi o addirittura che ne sono privi, vengono poi corretti con l'aggiunta di zucchero. Se invece il problema fossero i grassi saturi, mi verrebbe naturale consigliarti di valutare quello prodotto con la soia, eventualmente anche alternando i due nel corso della settimana. Concludiamo con lo yogurt greco, che differisce dal tradizionale principalmente per consistenza e contenuto nutrizionale, in virtù di un ulteriore passo nel processo di produzione. Lo yogurt greco viene infatti filtrato per rimuovere il siero, risultando quindi più denso, più cremoso e con meno zuccheri, ma con un contenuto proteico più elevato, decisamente più elevato. Quindi, tradizionale o greco, con quanti grassi lo scegliamo? Non esiste una scelta migliore in assoluto. Di nuovo, conviene valutare in termini di preferenze soggettive, sicuramente, e soprattutto di necessità nutrizionali. Per esempio, nello sportivo può essere vantaggioso concentrare le proteine in una quantità inferiore di cibo, eventualmente correggendo poi, di conseguenza, tutto il resto del pasto o meglio ancora della dieta nelle 24 ore. E veniamo infine alla preparazione dello yogurt in casa, che, credimi, se ci riesco io, è davvero la portata di tutti, ma prima di addentrarci nei pochi passaggi necessari, un brevissimo ripasso di quello che succede dal punto di vista microbiologico, giusto per comprendere meglio il processo di fermentazione. Lo yogurt si ottiene grazie all'azione di due batteri principali, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, anche se poi, ovviamente nel tempo, sono stati provati con più o meno successo anche altri microrganismi, in alcuni casi con un documentato effetto probiotico. Questi batteri, quando introdotti nel latte, iniziano a consumare il lattosio, lattosio che è lo zucchero del latte, e a produrre in risposta acido lattico come risultato del loro metabolismo. L'acido lattico abbassa progressivamente il pH del latte, creando un ambiente acido e quindi sfavorevole alla crescita di altri batteri potenzialmente nocivi. Inoltre, durante la fermentazione, le proteine del latte o della soia si denaturano proprio a causa dell'acidità, formando una sorta di reticolo gelatinoso che conferisce allo yogurt la sua caratteristica consistenza cremosa. I batteri continuano a moltiplicarsi fino a quando non esauriscono il lattosio disponibile o gli altri nutrienti presenti, o fino a quando l'ambiente non diventi troppo acido per la loro sopravvivenza. E' importante sottolineare che i batteri dello yogurt sono termofili, il che significa che prediligono temperature relativamente elevate per una crescita ottimale, ed ecco perché durante la preparazione dello yogurt in casa è fondamentale mantenere il composto a una temperatura costante per diverse ore, permettendo così ai batteri di svolgere il loro lavoro di fermentazione. Bene, ora che abbiamo compreso i principi base della fermentazione dello yogurt, possiamo senza ulteriore indugio procedere a iniziare. E sai come si dice, no? Chi ben comincia è a metà dell'opera. E per iniziare bene ci bastano tre cose. Un litro di latte o di bevanda di soia è in entrambi i casi una scelta oculata e davvero fondamentale ai fini del risultato finale. Il mio consiglio è quello di optare per il latte fieno se vuoi preparare yogurt vaccino, perché si tratta, a mio parere, del latte migliore dal punto di vista nutrizionale, perché se siamo quello che mangiamo, questo vale inevitabilmente anche per le mucche, che produrranno latte migliore se liberi di mangiare bene. Latte intero o latte scremato a seconda di cui cosa vuoi produrre, ne abbiamo parlato prima. Se invece fai la scelta, come faccio io, della bevanda di soia è davvero molto, 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 molto importante che si tratti di un prodotto di qualità che prevede una buona percentuale di soia e soprattutto che contenga solo soia e acqua, no zuccheri e soprattutto nessun additivo che potrebbe dare fastidio ai batteri. Secondo e ultimo ingrediente, uno yogurt da usare come starter, ovvero che ci fornisca i batteri necessari ad avviare la produzione. Questo ci servirà, vada bene, solo la prima volta, perché a partire dalla seconda produzione userai semplicemente un vasetto messo da parte dalla produzione precedente. Inutile dire che anche in questo caso la scelta di un prodotto di qualità è davvero importantissima, possibilmente yogurt di latte fieno per preparare yogurt tradizionale, oppure yogurt di soia se opti per quello vegetale, ma in entrambi i casi scegli preparazioni senza ulteriori ingredienti oltre a latte e fermenti e, se possibile, privilegia un barattolo con la scadenza più lontana possibile che trovi, magari pescando senza farti vedere sul fondo del banco frigo, così da disporre di una quantità elevata di batteri attivi. In alternativa puoi anche acquistare specifiche bustine di batteri in farmacia o in rete, se vuoi ti lascio qualche link in descrizione, ma credimi, con lo yogurt si va benissimo. Chiudiamo il cerchio con una yogurtiera, ovvero un elettrodomestico specificatamente progettato per mantenere il composto di latte e yogurt starter alla temperatura ideale per la fermentazione. Esistono diverse tipologie di yogurtiere sul mercato, da quelle più semplici ed economiche a quelle più avanzate e quindi costose, ma credimi, tutte svolgono essenzialmente la stessa funzione, fornire un ambiente caldo e stabile per permettere ai batteri di trasformare il latte in yogurt. Se non disponi di una yogurtiera puoi comunque provare a creare un ambiente adatto alla fermentazione con qualche barbatrucco utilizzando magari un termos o avvolgendo i vasetti di vetro contenenti il composto in una coperta spessa, posizionandoli poi in un luogo caldo e privo di correnti d'aria, come il forno chiuso con la lampadina accesa, tuttavia l'utilizzo di una yogurtiera semplifica notevolmente il processo e garantisce risultati più costanti più stabili nel tempo, vedendo peraltro ammortizzato il costo iniziale dell'acquisto dopo nemmeno troppi cicli di produzione. La mia, la vedrai tra poco, avrà come minimo 20 o 30 anni, ma funziona ancora bene, quindi anche tu prima di lanciarti nell'acquisto io ti consiglio di chiedere ad amici e parenti, magari ne hanno una dimenticata nell'armadio da regalarti, diversamente ti lascio anche di questo un paio di link in descrizione su cosa prenderei oggi se ne avessi la necessità. A questo punto siamo pronti a partire e ci sono diversi modi per procedere, ma personalmente io faccio così. Se usi latte vaccino fresco questo potrebbe contenere una quantità residua di microrganismi che potrebbero interferire con lo sviluppo dei batteri desiderati e quindi necessario come primo passaggio, ripeto se usi latte fresco, sottoporre il latte a bollitura per eliminare questi microrganismi indesiderati e successivamente raffreddarlo fino a raggiungere una temperatura di circa 40 gradi, ideale per l'aggiunta dei fermenti lattici, una temperatura più alta li ucciderebbe all'istante. Per rendere il processo decisamente più rapido agevole, specialmente se si intende produrre lo yogurt con una certa regolarità, è possibile invece optare per un latte a lunga conservazione. Questa scelta offre un duplice beneficio, i microrganismi indesiderati sono già stati eliminati e la conservazione a temperatura ambiente rende il latte immediatamente pronto per l'inoculazione. Questa è anche la situazione iniziale se decidi di usare la bevanda di soia a lunga conservazione e la apri al momento della preparazione, ovvero quando acquisti la bevanda di soia nello scaffale e non dal banco frigo e la usi immediatamente all'apertura del tappo, anche se alcune yogurtiere suggeriscono comunque che una preventiva bollitura potrebbe essere in un qualche modo preferibile. Al contrario, se dovesse utilizzare una bevanda di soia fresca o magari preparata da te in casa, sarebbe consigliabile pastorizzarla o bollirla prima di utilizzarla per la preparazione dello yogurt, in modo da ridurre la carica microbica e garantire un ambiente più controllato per la crescita dei batteri dello yogurt. Eventualmente comunque fai qualche prova e fammi sapere, ma ricorda di utilizzare sempre utensili e contenitori ben puliti, non è necessario che siano sterili e di prestare attenzione alle norme igieniche durante tutto il processo di preparazione dello yogurt, indipendentemente dal tipo di latte utilizzato. Dopodiché, bersa in ciascun vasetto vuoto e lavato un cucchiaino 2 di yogurt pronto, quello acquistato al supermercato oppure l'ultimo avanzato dalla precedente produzione. Aggiungi il latte o la bevanda di soia. Con un cucchiaino pulito mescola bene per sciogliere e uniformare la sospensione. Ovviamente si può anche preparare il composto in un unico grosso contenitore e poi versarlo solo successivamente alla miscelazione nei singoli contenitori. Io che sono un pigrone da competizione preferisco non avere nulla in più del necessario da lavare. A questo punto è fatto. Il tuo lavoro è finito. Chiudi la yogurtiera, l'accendi e vai a dormire. Trascorse 6, 9, 10 ore avrai lo yogurt pronto. Estrai i vasetti, chiudili con coperchio e lasciali raffreddare qualche minuto poco più a temperatura ambiente prima di riporli nel frigorifero. Sentiti libero di sperimentare con i tempi, ricordando che maggiore il tempo di riposo nella yogurtiera, maggiore sarà densità e acidità dello yogurt. Io, ripeto, con la soia dopo qualche prova arrivo a lasciarlo 12 ore, ma dipende dai gusti, dalla bevanda iniziale e dai batteri presenti. A proposito di batteri, cerca di portare un po' di pazienza alle prime volte, perché sono in una casa nuova e richiederanno quindi qualche ciclo di produzione per abituarsi, per stabilizzarsi. Questo significa semplicemente che durante le prime produzioni lo yogurt prodotto potrebbe essere un pochino troppo liquido. Se proprio vedessi che non migliora prova comunque a ripartire da zero, magari con una marca di yogurt iniziale differente o con una bevanda differente. Per approfondire preparazioni e alcune possibili incidenti di percorso, puoi fare riferimento a questa pagina pubblicata dal solito eccezionale Dottor Vendrame. Come vedi, è più difficile spiegarlo che farlo, perché si tratta di una procedura che una volta acquisito un po' di manualità richiede veramente non più di qualche minuto. Grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto su internet non può, e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao!